buonasera e bentornati sul canale oggi piccolo aggiornamento al video di domenica scorsa se vi ricordato installato sul macbook pro nel 2011 un banco da 16 giga e andando poi a vedere insomma le risorse di sistema il banco non viene riconosciuto vengono riconosciuti soltanto 8 giga effettivamente sul canale ufficiale della apple questo macbook del 2011 viene certificato per massimo 8 giga di ram ed effettivamente questi sono quelli che vengono letti dal sistema però cercando un po sui forum ho scoperto una cosa molto interessante in realtà è possibile aumentare la ram fino a 16 giga ma sfruttando due banchi quindi che vuol dire che ognuno di questi banchi può leggere al massimo 8 gigabyte quindi ho voluto provare a fare questa operazione io in questo momento non ho purtroppo due banchi da 8 giga per fare il test ma ho quelli da 16 quindi ho voluto provare facciamo adesso una prova quindi lascio questo banco da 16 che aggiungo un altro banco da 16 quindi tecnicamente dovrebbe leggerne anche se non è diciamo una cosa molto corretta però dovrebbe leggere 8 verbo sul banco e 8 sull'altro banco quindi adesso andiamo a fare questo test ed ecco qui dopo aver montato i due banchi da 16 sui due slot come vedete la memoria adesso è di 16 giga e se andiamo a vedere qui nella memoria ram come vedete ha riconosciuto due banchi da 8 g anche se in realtà come abbiamo visto sono due banchi da 16 quindi il macbook pro 2011 effettivamente può gestire massimo 16 giga su due banchi da 8 quindi ogni slot può leggere soltanto delle ram fino a 8 giga quindi perfetto possiamo dire che abbiamo aggiornato il nostro sistema adesso diciamo è ancora più performante grazie a questi 16 giga di ram spero che il video di questa sera sia stato interessante per voi come lo è stato per me una scoperta interessante insomma per aggiornare i nostri vecchi macbook e noi ci vediamo nel prossimo appuntamento un saluto e un abbraccio da stefano